Ha visitato le zone in particolare della Val Bormida, che cosa ha visto, quale situazione ha trovato? Abbiamo visitato un paio di località, diciamo tipica situazione di esondazione, quindi gravi danni nella parte dove è raggiunto l'acqua e certamente abbiamo visto un paio di situazioni rilevanti, poi bisogna fare una valutazione più complessiva. Per quanto riguarda i problemi alle linee elettriche, agli acquedotti, che cosa vi hanno detto i sindaci e soprattutto pensa che gli interventi riusciranno a risolvere queste situazioni in tempi rapidi? I sindaci li incontriamo adesso, quindi adesso faremo i punti proprio con loro, sappiamo che dalla sala operativa della regione le questioni elettriche si stanno risolvendo, ovviamente bisogna in alcuni casi attendere che l'acqua rientri, però insomma le squadre stanno già lavorando per ridare l'elettricità laddove ancora non c'è. Certo, questa emergenza si somma anche per esempio all'emergenza del terremoto, qui si quantifica a Sonne di Buria già un danno di circa 100 milioni di euro, stima preliminare. Pensa che queste cifre, questi risarcimento potranno arrivare in tempi rapidi? Il discorso dei risarcimento collegati alla parte alluvionale segue le regole che conosciamo, quindi se ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza, adesso faremo le valutazioni approfondite, ci sarà il ristoro delle sonne urgenze. Per i risarcimento se intendiamo ai privati e quant'altro bisogna aspettare la cosiddetta fase 2, quindi questo è quello che valeva prima, il terremoto è un altro discorso, non c'è un decreto legge, c'è un'attività diversa, questo è il motivo per cui stiamo anche lavorando sull'analisi della legge di protezione civile oggi al Senato. Una situazione analoga è quella del Piemonte, la situazione qual è al momento in Piemonte? Sì, è simile, ovviamente il Piemonte ha avuto anche per tipologia di corsi d'acqua danni importanti, tutta l'alta valle del Tanaro ha oggettivamente creato gravi problemi, anche lì aspettiamo di concludere la giornata di oggi perché siamo ancora in una fase di coda dell'emergenza, quindi è bene distinguere un attimo le fasi, chiudiamo la coda dell'emergenza e poi si stimeranno i danni per bene. Ecco, quindi i fiumi hanno un regime torrentizio per quanto riguarda il Po e i suoi affluenti, la situazione è diversa, voi temete ancora per qualche situazione in particolare o pensate che il peggio sia alle nostre spalle? No, beh, c'è la confluenza Tanaro-Bormide che è da tenere sotto controllo, anche perché il Po è alto, quindi c'è un problema di rigurgito, per questo dobbiamo attendere la serata, direi che se passa la notte è meglio e poi si valuteranno bene le cose. Le ringraziamo molto. Grazie.